a questo ipotetico viaggiatore cosa consiglierebbe di fare a che cosa consiglierebbe di prestare attenzione io gli consiglierei di sognare perché la meschita è un sogno realizzato è un'architettura pensata da un uomo che aveva in sé un'idea fantastica quella di recuperare la sua memoria e quindi rientrare in questa struttura e viverla per quello che è un labirinto geometrico una foresta di simboli e poi perdersi nella magia della del punto centrale della parete sud laddove si può guardare attraverso il mirab e sognare la mecca come è possibile arrivare all'integrazione tra due culture religiose e fonderle al punto che coesistano una struttura architettonica il problema che non si integrano le culture il mito il sogno di all'andalus come un esperimento riuscito in integrazione un mito falso c'è uno scontro di religioso uno scontro di civiltà che si esprime in una continua guerra guerreggiata anche nel momento in cui sulla meschita viene creata una nuova basilica cristiana del cinquecento appare veramente come una violenza e come un parassita che si immerge su una struttura viva come era la meschita originale e quella basilica riesce a cancellare in qualche modo il passato fortunatamente no lo deturpa ma non lo cancella non riesce a cancellare perché la potenza e la meschita è talmente grande talmente forte e l'immaginario che che evoca è tale che anche questo abbrutimento che avviene nel cinquecento non riesce a distruggere la bellezza grazie